Ma perché nell'Unione Europea non si riesce ad avere una maggiore armonizzazione fiscale? Perché è permesso a paesi come l'Olanda di applicare aliquote così basse rispetto alle imprese attirando lo spostamento delle loro serie legali presso tale paese? Il motivo è semplice ed è istituzionale. In materia fiscale l'Unione decide all'unanimità e quindi qualunque paese può bloccare le decisioni comuni. È necessario passare al voto a maggioranza qualificata per riuscire a raggiungere decisioni fondamentali rispetto all'armonizzazione fiscale che potrebbero prevenire questo tipo di comportamenti e portare un grande beneficio alle casse fiscali di tutti i paesi europei e quindi di tutte le cittadine e i cittadini dell'Unione.